In realtà non ce l'aspettavamo perché è arrivata all'ultimo minuto e ringraziamo per questa situazione di riapertura perché per noi è fondamentale, visto che nel nostro settore è stato molto penalizzato nonostante l'estrema sicurezza di questi luoghi dove si entra a suo appuntamento uno alla volta e con tutto il rispetto delle normative igieniche e sanitarie. Speriamo che duri questo e quello che aspettiamo noi come centro estetico perché non rientriamo neanche in quelle categorie che hanno dei sostegni, almeno per quello che abbiamo capito la situazione è un po' questa, regna il caos ma riusciamo a comprendere anche la particolarità della situazione. Una pandemia non è facile da gestire quindi al contrario di quelli che polemizzano continuamente noi siamo anche abbastanza consapevoli di questa situazione. I clienti come hanno reagito subito hanno telefonato anche nei giorni di Pasqua? Te lo giuro è verissimo, di fatti abbiamo mantenuto come abbiamo saputo che la regione ha dato il via diciamo alle riaperture e abbiamo messo subito nei social la notizia e anche il giorno di Pasqua ci sono arrivate fortunatamente delle richieste per gli appuntamenti. È sempre difficile riaprire dopo un mese di chiusura con tutto quello che comporta, la sanificazione dei locali, le clienti che comunque si perdono e noi ce la mettiamo sempre tutta. Siamo un po' stanche perché comunque chiudi, apri, chiudi, apri, non si capisce più niente. Speriamo bene, speriamo di poter riprendere al meglio insomma il nostro lavoro. Il lavoro viene svolto tutto su prenotazione con i clienti? Sì, sì sì, con prenotazione telefonica. Alcuni vengono anche in negozio a chiedere perché chi non ha il numero di telefono comunque si trova a passare qui davanti, si ferma a chiedere informazioni su come verrà svolto poi il lavoro, quante persone hanno anche paura di trovarsi anche con il negozio magari pieno. E comunque adesso non si può più fare, quindi siamo sempre con pochi clienti. Il ritorno a lavorare è stato sicuramente positivo in quanto la stagione è appena partita e quindi ci sono anche arrivati tantissimi capi e avevamo appunto bisogno di ritornare a vendere. Soprattutto una situazione dove molte attività potevano restare aperte e molte invece dovevano restare chiuse perché appunto appartenevano a determinate categorie. Assolutamente, questa è una cosa in effetti che ci ha un po' pesato e che insomma mi è dispiaciuto non poter tenere aperto. I clienti sono sempre abbastanza positivi, hanno voglia sicuramente di comprare capi nuovi, di tanto colore, hanno proprio il desiderio di uscire e quindi di anche comprare outfit nuovi. Sicuramente è una nostra speranza nel senso che ritornando anche alla vita e quindi sai anche i bar, aperitivi, ristoranti aperti sicuramente porta degli acquisti maggiori.